Giulia Giulia Andiamo a mangiare kebab? Certo, andiamo Stai tenendo la mano Buonasera signore Buonasera Giulia Che cosa vuoi ordinare? Ordino il polo kebab Ok, adesso mi preparo Giulia, sei contento? Si, sono contento Il vostro piatto preferito Che ho preparato In modo specialissimo Il polo Il polo kebab Buon appetito Il polo kebab Giulia Giulia Abbiamo mangiato kebab Certamente Ora vai a riposare Ok Riposati Ok Finalmente Grazie 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 Grazie